Fondina Flechtal Bundeswehr, ex dotazione, esercito tedesco, nuova di magazzino, mai utilizzata, eccedenza di surplus. La fondina è studiata e ideata per la P38 d'ordinanza tedesca. Andiamo a vedere materiali molto ben fatti, ben costruiti, con rigore proprio teutonico. Cuciture, cordura, capitolato militare effettivamente, ben fatto veramente, apertura sgancio rapido, cordura gommata totalmente impermeabile, porta caricatore laterale, ritenzione con bottone automatico sulla calciatura della pistola, sgancio. Possiamo vedere all'interno una parte con un materiale sintetico ma vellutato, di buonissima qualità. Il portacaricatore è questo laterale, come dicevamo, per cui ci va abbondantemente. Quello della P38, riponiamola, facciamo il processo inverso. Sul retro, ovviamente, agli attacchi specifici per la buffetteria tedesca, attacchi Bundeswehr. Una particolarità, queste fondine hanno le produzioni diverse. Ossia, essendo materiale di eccedenza, abbiamo riscontrato più e più ditte. Le stampigliature delle interne riportano il numero di produzione e varie ditte che hanno prodotto queste fondine originali. Quindi abbiamo preso tre a caso.